Vittoria casalinga per l'Amen Scuola Baschettarezzo che al Palace Porta Estra fa una vittima illustre battendo 83-76 la Synergy Valdarno nella seconda giornata di Coppa Toscana, squadra che milita in categoria superiore rispetto alla SBA. In casa Maranto Delia può schierare entrambi i nuovi arrivati, Chirlis e Dolfi assenti sette giorni fa con Valdisieve e il loro impatto nella squadra è stato senza dubbio positivo. Con maggiori rotazioni a disposizione gli Amaranto sono riusciti a reggere l'impatto di un ottimo avvio ospite e poi di tenere fisicamente fino al termine dei 40 minuti denotando passi in avanti in vista del campionato. Quattro gli uomini in doppia cifra per l'Amen tra cui spicca un determinato Gramaccia autore di 18 punti che ha dato importanti alternative al trio Chirlis-Cutini-Dolfi. Il percorso in Coppa della SBA prevede un ultimo incontro del girone di prima fase, sabato prossimo ancora al Palace Porta Estra ma con l'inizio alle 18.15 l'Amen ospiterà il Colle Valdelsa guidato in panchina dall'ex Pacini che sarà avversario degli Aghetini anche in campionato. Che stanno perlomeno da divertirsi nel senso da vedere un grande spettacolo? Sì, io voglio solo fare una cosa stasera, non ti voglio andare contro, però invece di parlare esclusivamente dei due nuovi arrivati voglio ricordare che dei grandi giocatori non ne abbiamo in squadra, voglio dire non ci dimentichiamo che un giocatore come Cutini lo vorrebbero in tutta Italia e lui invece rimane nella nostra città a dare il suo contributo e così anche tutti gli altri. Claudio Castelli, il guerriero, tutti gli altri, Gramaccia, Bianchi senza nulla togliere ai due nuovi anche perché si sono presi apposta quindi è giusto che loro diano il loro contributo. La cosa invece che conta credo che sia il fatto che si siano integrati subito bene e guarda che per un ragazzo di 25 anni venire via dalla Lituania per la prima volta, venire in Italia da solo, non parlando la lingua, non è una cosa semplice, ci vuole molto più tempo per l'adattamento quindi per lui dobbiamo anche avere magari un po' di pazienza perché secondo me può fare anche molto meglio di stasera. Diciamo che l'integrazione dei due giocatori uno per un verso uno per l'altro dovrebbe consentire quello che abbiamo visto stasera a tratte cioè come dire avere più rotazioni quindi il coach avrà più possibilità di avere delle rotazioni importanti.